Ciao internet! E così ieri hanno presentato finalmente tutta la nuova schiera di prodotti del mondo Apple. Vediamo insieme che cosa è successo, soprattutto analizzando le conversazioni di Twitter, per capire come è stata presa questa nuova serie di... Boh, alcuni dicono rivoluzionare i prodotti, altri dicono semplicemente aggiornamenti della piattaforma. Vi dirò prima che io rifiuto categoricamente di chiamare l'iPhone X iPhone X perché sennò mi devono fare prima il 9 e quindi continuerò a dire iPhone X. Partiamo utilizzando i strumenti di The Fool, in questo caso utilizzando Crimson Hexagon di cui siamo partner, per andare a cercare iPhone or Apple. Andiamo poi ad analizzare giusto per completezza i tweet in italiano su territorio italiano. Se avessimo solo limitato per territorio avremmo avuto circa 20.000 tweet, se avessimo fatto invece totalmente senza alcuna limitazione, il numero sarebbe stato estremamente superiore. Partiamo dall'inizio su quali sono stati i tweet con maggiore rilevanza e risonanza. Partendo dall'inizio, abbiamo da Trash Italiano con... Io mentre guardo i prodotti di Apple, subito dopo il droghiere, che vedremo dopo nei top tweet, e Andrea Fontana, che parla delle emoji customizzabili in base all'espressione facciale. Abbiamo Mirko Ponzio e subito dopo, molto in ritardo, intorno alle 11.30 di sera, quindi a fine, ben alla fine del keynote, abbiamo l'account ufficiale di Apple, che in italiano twitta, iPhone X, il futuro può cominciare. Interessante invece, nelle 24 ore successive, come Lercio, ancora una volta sul real-time marketing, faccia una battuta proprio su iPhone X, non lo dico 10, è inutile che mi continuate a guardare così, con Napoli compra un mattone e ci trova dentro un iPhone. Torniamo invece ad andare a vedere i contenuti. Tra i top contenuti, che sono stati rilevati nelle ultime 24 ore, abbiamo come primo, ovviamente, il tweet ufficiale di Apple, subito dopo il droghiere, che scrive e venne iPhone 8, che spense il 7, che bruciò il 6, che sostituì il 5, che la gente per comprarlo, per mesi pane e acqua mangiò. Subito dopo abbiamo il tweet che abbiamo già visto di Trash Italiano, seguito da, non ce ne frega un cazzo dell'iPhone, noi vogliamo un iPhone con batteria, che duri come il Nokia 3210, senza bisogno di dover vivere con l'ansia, e quasi ormai l'immancabile, le frasi di Osho, con presentato l'iPhone 8, e pensate che c'è se potrà pure telefonà. Interessante vedere invece la parte delle immagini relative. La prima l'abbiamo conosciuta spesso ed è ancora ripresa, più o meno esce ogni volta, con il nuovo Apple Pay potete acquistare nuovi iPhone col pagamento che preferite, Visa Mastercard Rene, ovviamente andando a discutere sul prezzo, che in Italia dovrebbe partire da 1180 euro. Ancora una volta, un Rene o tua madre, il crosto dell'iPhone, ancora si ironizza su il costo. Abbiamo l'immagine con, amo l'Apple perché è riuscita a far sembrare sempre più poveri quelli che spenderanno 900 euro per un iPhone 8 nuovo. Subito dopo, allucinante il tweet di Carlo Sibilia, che in ottima, diciamo, in ottima tradizione 5 stelle, fa un tweet di spessore, con Oggi l'Apple presenta l'iPhone 8, noi in Parlamento siamo costretti da PD a discutere di fascismo verso comunismo, fate voi. Già, perché è molto più importante andare a vedere il keynote della Apple rispetto a capire invece i disegni di legge che sono in Parlamento. Forse Sibilia ha sbagliato la vocazione e deve tornare come genius nell'Apple Store, ammesso che ne abbia le capacità. Continuando sull'ironia su il costo dell'iPhone e il fatto che comunque costa un rene, la ricerca di Google, quali organi non servono? Ancora avanti fino a, va bene, il lancio di Cervone con l'ufficiale iPhone. Tra gli hashtag, il hashtag ufficiale dell'evento, Apple Event, Apple iPhone X, che sarebbe 10, iPhone 8, iPhone Keynote 2017. Sempre importante la parola futuro all'interno delle top parole utilizzate. L'audience, l'audience legata principalmente al 24% dei contenuti da Lombardia, seguita da Lazio ed Emilia Romagna, rispettivamente col 17,3 e l'8,5%. Un pubblico, come spesso succede nella tecnologia, è sfortunatamente un po' più orientato verso gli uomini rispetto alle donne, 60-40, e un po' più orientato rispetto alle demografiche, 35+. Insomma, quello di cui si parla tanto è principalmente il costo. Tante conversazioni che vertono su attualità legata ad iPhone e battute di spirito, come ormai è la prima cosa che troviamo su Twitter. Tante conversazioni, anche se non abbastanza per arrivare così in alto, sul Face ID, il nuovo sistema di autenticazione particolare. E poc'altro per adesso nel raccontare quello che è ovviamente il nuovo status symbol della tecnologia. Ma queste erano le mie opinioni. E le vostre? Scrivetele nei commenti qui sotto. E se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Io sono Matteo Flora, come sempre vi tengo compagnia 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con un video come questo. E prima di chiudere, volevo dirvi che, come forse avete visto, là sopra c'è un piccolo bollino. Un bollino con scritto AD. Perché? Perché, secondo quelle che sono le norme più corrette della trasparenza, soprattutto relativa agli influencer in Italia, e dopo la discussione della Gcom, ho ritenuto opportuno in questi video, quelli del giovedì, che faccio con gli amici di Startup Italia, ma facendo vedere i servizi di The Fool, l'azienda che ho fondato, e siccome comunque tutto quello che voi vedete può essere interpretato come un endorsement, una sponsorizzazione, o anche solo una dimostrazione delle funzionalità di quello che facciamo in The Fool da mattina e sera, è giusto che appaia molto chiaro il fatto che io ho un interesse in The Fool, la mia società. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e... e state parati. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.